Purtroppo qui al Salone di Ginevra non è presente il pianale MQB visto precedentemente. Abbiamo comunque a disposizione questa meccanica che è quella di Allaudia 3 in versione O2Fuel. Potete vedere dietro ci sono le bombole. Possiamo notare comunque l'alloggiamento del motore. Con lo scarico posteriore permette per tutti i motori, benzina e diesel, di arretrare il motore e soprattutto inclinarlo con un angolo di 12 gradi al posteriore. Abbiamo quindi qui il cambio, il differenziale anteriore e lo scarico, la linea di scarico. Il pianale MQB riesce a ottimizzare su quattro cilindri e su cinque cilindri perché Volkswagen punterà su cinque cilindri come dimostrato dall'Audi TT S ed RF e non più sui vecchi VR6, cioè i V6 con angolo di 15 gradi tra le bancarie. Passiamo comunque a vedere in questo caso la versione B-Fuel con il serbatoio sotto i sedili posteriori. Come possiamo vedere l'infinazione è appunto quella della seduta e le bombole dietro. Da notare come in questa versione si è disponibile una sospensione posteriore interconnessa. Come potete vedere questa struttura qua che lega le ruote posteriori. Mentre sulla versione normale di Altrebole in commercio di Golf utilizzano per tutte le versioni delle sospensioni multiline.